Amici di ShareTube, gran risa, domenica, giornata di tralom gigante, tutto è pronto, mancano 5 minuti da partenza, parte ora il collegamento delle televisioni internazionali, questo è l'arrivo della pista 55, ed eccoci qui già pubblico sulle tribune, tantissimi gli italiani, tanti gli svizzeri, e tra pochi minuti partirà la prima manche.